Wabalabadabadab e bentornati su No Mamamazzo. Continuiamo a parlare di Samuel Stern, anche se non è ancora la fine del mese. Perché questo? Perché l'8 maggio è uscito il primo volume dal titolo I Racconti dal Derrylang. Una data non a caso, dato che è uscito lo stesso giorno del Colorfest della concorrenza, ma qua di colori non ce ne sono. Però ci sono 128 pagine di racconti, tutto in bianco e nero, alla modica cifra di 5,50€. La copertina, la costina d'angolo è uno spettacolo perché ricorda proprio uno di quei vecchi libri tanto cari ad Angus Derrylang, di cui narrerà i racconti in questo volume. Prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che ve frega, condividete il video con tutte le persone che raccontano o leggono racconti e commentate qua sotto con quello che ve ne è parso di questo volume, ma soprattutto scrivetemi qui sotto qual è il vostro racconto preferito tra i 10 che ci sono all'interno di questo fumetto. Ebbene sì, ci sono 10 racconti. Ovviamente sono racconti brevi, se fate i calcoli, 128 pagine diviso 10, all'incirca 12 pagine a racconto. Se poi consideriamo anche che c'è un contenitore di questi racconti, che sono appunto il circolo letterario Le Horla, spero si pronunci così, instaurato da Angus Derryling, uno dei coprotagonisti della serie Samuel Stern, il libraio, il datore di lavoro di Samuel Stern, molti racconti sono proprio, proprio brevi. Come me lo aspettavo anche dal titolo, sono racconti in cui Samuel Stern è assente. Si vede solo all'inizio, fa un po' un cameo come si fa negli spin-off delle serie tv importanti, quindi introduce un attimino questa serie spin-off di Samuel Stern, si vede un po' all'inizio, ma poi la serie è focalizzata tutta su questi racconti. Quello che invece non mi aspettavo è che sono racconti anche all'interno del fumetto, nel senso che io mi aspettavo una serie di storie che parlassero del mondo sterniano, quindi dell'universo di Samuel Stern e dei suoi demoni, senza che coinvolgessero Samuel Stern. Invece sono dei veri e propri racconti che vengono narrati da Angus e dai suoi amici del circolo letterario e che prendono vita sotto le matite dei vari disegnatori che si sono susseguiti in questo volume. Oltre ai romanzi, la letteratura è piena di raccolte, di racconti brevi. Questi in particolare mi hanno ricordato un po' quelli di Edgar Allan Poe o anche quelli di Lovecraft, soprattutto quelli un po' più strani e stralunati. E qua la Bugs Comics ha voluto fare la stessa cosa in chiave fumettistica. È un esperimento che mi è piaciuto molto e spero che continuerà. Sicuramente ci sarà già una seconda uscita, perché se voi guardate in fondo diranno che dall'8 novembre ci sarà il secondo volume. Spero che questa cosa abbia successo. Anche perché, secondo me, oltre ai racconti brevi che ci godiamo, che vi consiglio di leggere se riuscite in tarda notte quando c'è questa atmosfera appunto da Edgar Allan Poe, oltre a questi racconti brevi, secondo me c'è anche una leggerissima trama orizzontale che è quella che si colloca, diciamo, nel contenitore di questi racconti. Quindi proprio nel circolo letterario Le Horla, quindi all'interno della libreria Derry Lang, secondo me si svilupperà una trama orizzontale. Questo perché? Perché tra i personaggi che fanno parte di questo circolo abbiamo Sharon, una ragazza che abbiamo già visto nel numero 2 di Samo Esterni, Il Mausoleo Nero. Abbiamo una simpatica vecchina che però, secondo me, nasconde qualcosa, è più tetra di quello che dà a vedere. Abbiamo un ragazzo scapestrato che è stato portato lì da padre Duncan perché ha rubato, ha cercato di rapinare una macchinetta, una slot machine, e quindi piuttosto che fare i servizi sociali, padre Duncan l'ha mandato al circolo letterario. E poi alla fine abbiamo anche un Sir, Sir Clark, leggo è Ashton Smuthers, che è, a quanto pare, una vecchia conoscenza di Angus, che se non avete ancora letto il fumetto, non voglio spoilerare troppo, oltre a Angus stesso, quindi ci sono questi elementi. E secondo me potrebbe svilupparsi un'interessante trama orizzontale dove magari potrebbe servire l'intervento di Samuel, prima o poi. Ma parliamo delle dieci storie, velocemente ovviamente, perché sono dieci racconti brevi e non posso parlare di ogni singolo racconto, anche perché sono talmente brevi che ve lo spoilerai tutto. Vi dico solo i titoli, i racconti sono Mi è piaciuta molto una frase detta da Sharon, una appunto dei personaggi presenti nel circolo Le Horlam, ovvero non credevo che una storia dell'orrore potesse anche farmi piangere. Sharon lo dice riferita alla storia Denti da Latte, per me ammetto che è stata la storia Ballo di Nozze e mi ha fatto veramente impressione l'attaccamento delle persone in vita a un caro istinto, a tutti i costi. È una delle due storie, Ballo di Nozze, insieme a Elsie, quindi le prime due storie sono quelle che ho trovato più Lovecraftiane, se vogliamo, rispetto alle altre. E devo dire che mi hanno impressionato molto. Mi è piaciuto molto questo fumetto perché racchiude tanti generi diversi, tanti sottogeneri diversi. Per esempio la storia Cena di fidanzamento, dove ci sono, vabbè, non voglio spoilerare, dove è un mix tra Teen Wolf e Indovina chi viene a cena, è forse quella più umoristica. Mi è piaciuta un casino, mi ha fatto davvero divertire. Burocrazia è stata molto carina, molto breve ma intensa, mi ha ricordato vagamente il canto di Natale, quello con Scrooge sotto un'altra chiave, ma più o meno il significato era quello. Nouvelle Cuisine, nulla che non avevamo già visto, ma in un certo senso, ciò nonostante, c'è un piccolo plot twist, quindi si parla di cibo, si parla di carne, in una storia dell'orrore si può pensare alla carne umana, ma in realtà anche lì c'è un piccolo plot twist e questa cosa mi è piaciuta, mi è piaciuta perché non è stata banale. Denti da Latte appunto è stata una storia molto, molto carina, assolutamente non dell'orrore per me, è stata una storia che può ricordare Elephant Man per esempio, è stata molto carina l'affetto che si è creato tra i due personaggi. Viaggio verso casa, niente po' di meno scomoda anche la storia e anche la leggenda, anche i rituali voodoo di New Orleans, il Baron Sam D, che se avete visto il film Disney La Principessa e Ranocchio potrebbe non suonarvi troppo nuovo questo nome. Mi è piaciuto molto che hanno pescato anche da questo, spero facciano altre storie di questo tipo, dal punto di vista storico, dalle leggende delle varie parti del mondo. Confido molto in Massimiliano e Gianmarco su questa cosa, sul fatto che vadano a pescare da leggende sparse per tutto il globo. Tenta la Fortuna è una delle storie che mi ha dato meno, ma perché è davvero corta, però devo dire che il significato è ben chiaro, non è troppo velato, è stato carino che abbiano speso due pagine, hanno riempito due pagine con questa storia. E infine Natasha, che è stata una delle storie che mi ha ricordato un po' anche i vari teen movie, dove appunto il belloccio di turno per scommessa esce con la brutta della scuola, la nuova arrivata, qui in chiave horror e ammetto che mi ha sconvolto, nel senso che mi è piaciuto che questa ragazza, in questo caso che era un po' più che la bruttarella della scuola che aveva subito qualcosa che la rendeva diversa, non fosse stata una sproveduta. Anzi, fosse preparata a tal punto da essere poi quasi lei il carnefice alla fine. Dico quasi perché non so bene, non voglio spoilerarvi troppo, però è una storia che ti resta dentro, ti fa impressione. Che dire quindi? Promosso a pieni voti, questo volumetto che è alla sua prima uscita, ci vediamo a novembre per parlare del secondo numero, del secondo volume, i racconti dal Derryling, poi ovviamente noi ci vediamo sempre anche a fine mese per parlare della serie regolare, parleremo del numero 19, i sotterranei di Edimburgo, quindi ci rivediamo con Samuel Stern, poi se mi seguite anche per la gentile concorrenza, quindi per l'indagatore dell'incubo di Laniato, noi ci vediamo anche lì sempre a fine mese per il numero 417, se non sbaglio, e poi pochi giorni dopo, forse il giorno dopo comunque, ci sarà la seconda live su Dylan Dogg, siateci perché l'argomento sarà molto molto carino, ci saranno anche degli ospiti. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci. Grazie a tutti.